Sì, le divisioni sono nel dibattito che oggi caratterizza questo istituto giuridico dell'autonomia differenziata perché chiaramente ci sono posizioni politiche delle parti sociali ovviamente contrapposte, chi più chi meno. Però personalmente e non solo come appartenente ad una forza di maggioranza del governo ma anche personalmente, diciamo, anche come persona che con il diritto ci lavora e leggendo sia l'articolo 116 terzo comma e sia la legge di attuazione che è stata varata già in Senato, ora è passata la Camera per l'esame, effettivamente così come ha detto il professor Cassese, noto costituzionalista italiano, rappresenta un'opportunità. E rappresenta un'opportunità per tutto il territorio nazionale perché soprattutto per le regioni più povere, meno popolose, più piccole come per esempio il Molise, l'Umbria, la Basilicata o comunque quelle regioni che finanziariamente oggi versano in situazioni difficili con questa, diciamo, con l'autonomia differenziata, poiché il presupposto costituzionale è quello di garantire i livelli essenziali delle prestazioni alla stessa maniera su tutto il territorio nazionale, significa che finalmente si va a superare il cosiddetto concetto della spesa storica che poi alla fine era soltanto uno specchietto per gli allodole perché costituiva una sorta di osservatorio per il mezzogiorno che poi in realtà non veniva soddisfatto e quindi oggi non ci sarà più la spesa così precostituita a livello storico per il mezzogiorno bensì sarà individuata una spesa in favore delle regioni del mezzogiorno, delle regioni più in difficoltà secondo i reali fabbisogni. Ecco dove sta la novità. Per cui al di là delle strumentalizzazioni politiche è bene avere personalmente e anche in vito le altre forze avere un approccio più asciutto, più tecnico di fronte a questa norma che è al centro del dibattito politico e sociale di queste settimane, di questi mesi perché è uno strumento importante perché appunto va a restituire dignità a tutti i territori regionali e poi consente peraltro da un lato di avere gli enti e gli organismi che devono emettere provvedimenti piuttosto che fare programmi più vicino ai cittadini e nel contempo obbliga agli amministratori delle singole regioni ad una maggiore responsabilità, li obbliga ad evitare di perdere fondi perché non è che poi gli saranno ridati dallo Stato ma nel momento in cui ci sarà l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni e con il governo che dovrà garantire la spesa per sostenere tutti i livelli essenziali delle prestazioni cioè quindi tutti i servizi sociali, sanitari, infrastrutturali, della mobilità, dei trasporti ci vuole grande responsabilità, gli amministratori regionali che non saranno capaci non saranno in grado di sostenere un'amministrazione della regione allora ecco è una spinta in più anche per chi va ad amministrare con queste nuove regole che sicuramente potranno fare il bene di ogni singola regione